Il Green Pass base sarà obbligatorio da domani anche per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall'estetista in tutti gli esercizi, quindi, che si occupano di servizi alla persona. Sarà sufficiente un tampone negativo, non sarà necessaria l'avvenuta vaccinazione, ma il certificato verde dovrà essere esibito all'ingresso e agli esercizi spetterà l'onere del controllo. Sarà una cosa difficile perché spero che tutti arrivino con il certificato in mano o perlomeno nel cellulare. Ecco, io realmente mi sono attivata col cellulare avendo scaricato l'app e da due ore mattina inizieremo con i controlli a tappeto. Io sono già preparato, l'ho già messo fuori, non si accettano senza Green Pass. Mi sono anticipato di un giorno. Chi ha il Green Pass quando viene qui è felice. Tentendono un po' quando vedono qualcuno che non c'era io, ero costretta ad accettarlo. Lo trovo una cosa buona, ok, però dall'altra parte ho già qualcuno che scherzando passa dicendo ma adesso come facciamo? Me li fai con Giola Claire? Vieni a casa a farmi i capelli? Ecco, non vorrei ritrovarmi a dover lavorare meno perché chiaramente non asseconderò mai queste proposte. La speranza è che con l'obbligo di Green Pass i clienti si sentano più sicuri, ha dichiarato il presidente della Confesercenti di categoria Sebastiano Liso, che auspica però nuovi ristori a sostegno di un settore che in due anni ha visto chiudere il 20% delle imprese.